Buongiorno a tutti ragazzi da Stefano del GRP in questo piccolo video vorrei parlarvi un attimo delle prossime indagini che faremo qui in loco non ci sposteremo più di tanto perché saranno nel circondario dei nostri comuni quindi non andremo lontanissimo comunque prima la sigla e poi dopo vi spiegherò le prossime indagini sigla e sottotitoli e per favore Eccoci qua, allora le prossime indagini stiamo prendendo accordi per farle in due diversi castelli medievali, uno del 1200 e uno del 1600 circa, approssimativamente. Stiamo finendo gli accordi con i proprietari, i gestori di questi luoghi per andare a fare un'indagine paranormale, probabilmente nei sotterranei dove a quei tempi c'erano le antiche prigioni, dove venivano rinchiusi quelli che catturavano i nemici, insomma quelli che erano. Faremo queste indagini paranormali prima in un castello e poi in un altro, in due paesi qui, nei dintorni, quindi nelle vicinanze, in un raggio d'azione di un venti chilometri, non di più da dove abitiamo noi. Va bene, appena avremo finito queste indagini paranormali e anche scientifiche, perché nei sotterranei dei castelli c'è da aspettarsi di tutto, non solo delle ombre che si spostano, delle presenze che vengono vicino, dei fantasmi oppure anche dei suoni, rumori, a volte si catturano con le WP rumori del passato che sono rimasti nell'ambiente. Comunque poi faremo, come sempre, il video, il videomontaggio e metteremo a disposizione di tutti quanti voi queste indagini che andremo a fare, tranne molto. Quindi stringete un attimo i denti, aspettate con un pochino di pazienza, perché le indagini saranno belle le prossime. Un saluto a tutti da Stefano del GRP, buona giornata e arrivederci a presto. Sigla! Grazie! 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 Grazie!